A.A.A. Assessore cercasi, anzi assessora, perché per far quadrare quote rosa e giunta il sindaco di Rossano Veneto Marco Zonta ha fatto pubblicare un annuncio sul sito del comune chiedendo alle interessate di farsi avanti. L'annuncio ha stuzzicato la curiosità di che un ruolo da assessore, pardon assessora, se l'ha appena visto ritirare proprio da Zonta. Il bando è aperto a tutti, una delle prerogative di questo bando che non chiede di essere architetto o geometra è quella di sottoscrivere un programma che guarda caso il programma che ho scritto io e perché no? Rifare questa domanda per capire perché magari facendola dovrà darmi delle motivazioni per cui mi ha allontanata. Morena Martini ricorda di aver ricoperto l'incarico da assessore ai lavori pubblici per otto anni. I risultati ci sono perché sono state fatte opere per 17 milioni di euro e quindi insomma non devo dimostrare di averne le competenze. L'ex sindaca si avvia quindi a protocollare con una PEC la propria candidatura e attenderà poi una risposta del suo successore. In questa farsa che si sta consumando a Rossano Veneto aggiungiamo un'altra pagina che sta facendo sorridere tutto il bassanese. Questa sarà pure una farsa ma per qualcuno c'è poco da ridere. In questi giorni ho potuto incontrare tantissima gente in tantissime feste di quartiere e sono tutte quante sgommente queste persone perché si stanno proprio chiedendo come mai a fronte di un voto popolare definito c'è stato chi ha sconfinato quelli che sono i confini del buonsenso facendo alleanze nottetempo con gli sconfitti. Ecco, questo preoccupa molto. I cittadini sono indignati e io a questi cittadini ho detto che questa indignazione la devono rivolgere a quello che in questo momento è il primo cittadino e alla squadra che ha voluto fare. E mentre a Rossano non sanno se piangere o ridere arriva nei cellulari di mezzo paese una canzoncina satirica e piuttosto irriverente nei confronti del primo cittadino. Una canzoncina il cui ritornello fa così. Alla luce del sole insegui solo il tuo cammino ma il popolo ti guarda e non può dimenticare le sue speranze infrante.